Picciotti Sicilia è tutto tondo, ci siete mai stati ad Agrigento, oggi vi ci portiamo noi e partiamo da qua, da questo bellissimo Belvedere, il Belvedere Modugno e c'è un mare spettacolare. Picciotti e siamo in inverno ma sembra di essere in estate, questa è la bellezza della Sicilia e di Agrigento. E ora venite con me perché vi porto nella scala più famosa d'Europa, guardala qua amore. Ed è meravigliosa Picciotti voi lo sapete, io dico sempre così ma questa guardate, giudicate voi, questa è che cosa è amore? La scala degli artisti, una scala tra le più famose d'Europa. E le più belle. Allora è immancabile la foto con Camilleri. Ecco, maestro Camilleri buongiorno, questa è mia moglie e se la può tenere, arrivederci, grazie, ciao. E camminando, camminando siamo arrivati in questa bellissima piazza, piazza Purgatorio. Secondo me questa è una delle chiese più belle che abbiamo visto finora da Agrigento, vero? E facciamola vedere Picciotti Sicilia tutto tondo, poi illuminata con questo sole, è magnifica, Picciotti. Agrigento offre una bellissima vista, guarda qua che mare. E da qua si nota pure la Valle dei Templi. Allora si nota, ma tu la noti io pure, ma dal video non tanto, ma il mare che è bellissimo. E questo sole fantastico si nota ne come. Questa è una curiosità, lo vedi questo edificio così abbandonato? Sì, eccolo. Però questo è il secondo circolo sorto in Europa, cioè una cosa storica. Mamma mia! Allora è sorto nel 1742. Eccoci arrivati in piazza Pirandello, alle mie spalle c'è il teatro, all'interno è magnifico, noi ci siamo stati per un bellissimo concerto e al lato potrete visitare la chiesa di San Domenico. Mamma mia, imponente, bellissima! Allora Picciotti, adesso stiamo facendo una passeggiatina in via Atenea. Sì, la via principale. Che è la via principale. Noi stiamo facendo vedere, oggi c'entra, Agrigento così, ma qua c'è Valle dei Templi, Scala dei Turchi, la Casa dei Pirandello, chi più ne ha più ne metta. Tantissime cose. Ora ovviamente è pausa pranzo, abbiamo deciso di venire da Antichi Sapori con questo tagliere enorme. Carlo è già pronto. Guarda che bello, vuole dire, è tutta siciliana. Sì, 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 guarda che bella. Buon pranzo, amore. E noi ora ci siamo spostati dal centro di Agrigento e siamo venuti qua alla Valle dei Templi, perché ovviamente se venite ad Agrigento dovete visitare questo parco meraviglioso. Mi raccomando, armate e bombole d'ossigeno perché si cammina, ma è veramente un'esperienza da fare. E ovviamente dopo la visita alla Valle dei Templi dovete venire qua da Luigi Pirandello, eccellenza siciliana nel mondo. Che dire, Picciotti, un bacio. Abbiamo cercato di racchiudere in poche ore quello che potete fare ad Agrigento, ma venite a visitarla e seguite la nostra pagina. Ciao, Picciotti! E la sera da Agrigento dovete venire in Via Atenea, la via dei locali dove c'è tutta la movita.